Gianfranco Russino, già direttore dell'area marina protetta per diversi anni e anche coordinatore del recente passato di Forza Italia. Proprio l'area di riserva marina in questi giorni è ritornata alla ribalta per diverse motivazioni, alcune poco nobili e anche altre sfortunate, e soprattutto per il discorso dell'unificazione bocciata dal Ministero. Parliamo subito di questo passaggio purtroppo negativo, che però ovviamente non riguarda una scelta vostra di quando lei era direttore. Sì, certo, non è una scelta che abbiamo ricercato, che personalmente ho sempre ritenuto errata, ma non illegittima, nel senso che era legittimo che si pensasse anche ad un rapporto più stretto e quindi tradurlo anche dal punto di vista giuridico. Certo è che l'unificazione dal punto di vista giuridico era impossibile e questo purtroppo è stato certificato dal Ministero. Le obiezioni però non sono soltanto di natura giuridica, cioè le cose non è che si fanno solo per fare, ma la finalità è sempre l'utilità, quali obiettivi si devono conseguire e quindi io ho sempre pensato che fosse più opportuno che ci fosse unità di intenti e collaborazione piuttosto che santificare questo all'interno di codice e codicilli, insomma. Poi il fatto che il Ministero si sia espresso così non voglio dire che mi dispiace, però fa chiarezza, quantomeno fa chiarezza. Una fusione non è possibile, un'integrazione, un rapporto stretto, eccetera, era sicuramente possibile allora e sicuramente possibile oggi. E quando lei era direttore c'era già questo rapporto, a mia memoria, sì, di collaborazione stretta tra il Parco e la stessa area marina partita, però erano due organi distinti che producevano entrambi delle progettualità e anche uno sviluppo possibile entrambe. Questo un po' rientra nella strategia, il fatto di avere due enti che sono giuridicamente diversi, che operano oggettivamente su due contesti diversi, l'uno è la terra e l'altro è il mare, pur essendoci ovviamente dei punti di confine interessanti, importanti, ma comunque distinti, la stessa legge li ha distinti, ha originato e può originare sempre, a mio avviso, una partecipazione coordinata tra i due enti. Per intenderci, nelle progettazioni nazionali o anche quelle europee, poter vantare il contributo di un apporto di un ente di livello nazionale, l'area marina protetta, è un altro di livello regionale, ma non meno importante, è una carta da giocare sempre e comunque quando si concorre in bandi dell'Unione Europea o della Regione o dello Stato o di Roma. Esatto. Qualcuna delle progettualità che avevate già avviato e comunque anche concluso di quegli anni ce la può ricordare? Per il vero furono tante. Sì, sì, ricordo. E ne ho piacere. Le più importanti, diciamo. Io ricordo con molto piacere quando l'amministrazione di Alghero si dovette confrontare con il bando regionale per le aree SIC. Ecco, in quell'occasione ci fu veramente un coordinamento e un ottimo rapporto tra i due enti, proprio perché ciascuno portò sul piatto di questa bilancia di contributi e di gara per ottenere i relativi finanziamenti, portò le proprie conoscenze, le proprie esperienze e la propria capacità di produzione. Ecco, quello fu un momento estremamente interessante. E all'interno di quel momento proprio l'area marina protetta curò una scheda sulla Grotta Verde. Una scheda estremamente importante perché nacque in un momento in cui i finanziamenti erano assolutamente insufficienti a soddisfare la scheda stessa. Per cui in regione, infatti, rifletterono su questo dicendo che effettivamente la scheda è valida, ma è una scheda che va oltre le possibilità economiche del piano. Però la possiamo inserire nell'accordo programma quadro e così fu fatto. In effetti, ovviamente, il sindaco Teddi accettò di buon grado di far passare la scheda progettuale che rimaneva sempre nel piano SIC ma che entrava nell'accordo programma quadro e quindi dopo vent'anni finalmente si progettò una soluzione di restituzione alla comunità algherese e non solo, ovviamente, ai flussi turistici, si avviò questa azione per restituire la Grotta Verde alla fruizione pubblica. E invece questa fruizione ancora non è arrivata. Come tante cose che purtroppo sono sotto gli occhi nostri, partendo da diversi mobili, come per esempio il Cavalmari, il Balaghe e anche altre situazioni in generale, siamo fermi a diversi anni fa. Perché c'è questo stallo che è ovviamente legato a dinamiche anche burocratiche delle aziende che sono intervenute? Però qual era la vostra idea proprio sulla Grotta Verde? Perché oggettivamente avrebbe portato dei flussi importanti economici, tradotto lavoro, posti di lavoro. Non vi è dubbio, non vi è dubbio. Guardi, il primo scoglio da superare in quella progettazione fu la difficoltà, la complessità dell'operazione, perché si trattava di una grotta trascurata da un ventennio da parte delle istituzioni. di fatto chiusa, anzi anche giuridicamente chiusa, perché c'era stato un intervento da parte dei Vigili del Fuoco. Quindi superare tutte queste cartacce non fu facile, però questo era un obiettivo che si voleva raggiungere e si è lavorato in questa direzione. Dopodiché, una volta che è stato avviato e approvato il progetto e finanziata l'opera, è passata di competenza, come è naturale che sia, delle opere pubbliche all'interno dell'amministrazione. Credo che siano nate dei problemi nello sviluppo del progetto, però questo tutto sommato non mi spaventa, nel senso che è un percorso che è iniziato, che trova le sue difficoltà, ma che devono essere superate. L'obiettivo non è soltanto quello della fruizione, ma quello delle ricadute economiche, cioè sarebbe stata e sarà sicuramente nei prossimi anni l'unica nuova proposta fortissima ambientale da offrire al turista, che gode peraltro di un percorso già avviato dal punto di vista della conoscenza, che è quello della grotta di Netuno. E quali potrebbero essere gli altri sbocchi legati proprio allo sviluppo dell'area marina protetta? Quest'estate ci sono state delle critiche, riverberate in questi giorni dalle opposizioni, da altre parti, porzioni della città, riguardo al fatto che si è detto che il gommone della marina protetta non è neanche lasciato il molo, insomma che non c'è stata attività. Quali sono secondo lei invece quelle che possono essere i punti forti della marina protetta ad oggi, proprio per arrivare sempre a quell'agognato sviluppo, perché qua dobbiamo creare sviluppo e lavoro? Poc'anzi mi aveva chiesto quali erano i progetti principali, tra i progetti principali, lo voglio dire come dire a conclusione del ragionamento precedente, non c'erano solo quello di creare sviluppi eccetera, ma anche di evitare delle controtendenze, per intenderci l'operazione di bonifica della costa di Capocaccia, quindi della falesia di Capocaccia, è un progetto dell'area marina protetta che è stato portato a termine dall'amministrazione attuale e senza quel progetto ci sarebbero stati dei rischi di chiusura della grotta di Nettuno, il che sarebbe stato terribile per la comunità algherese, magari non lo sanno in molti, però è estremamente importante invece che il progetto ci sia stato, che noi la si sia vinti allora a Cagliari contro tutti e tutto, e sia stato concluso tal che questa tragedia di un'eventuale chiusura della grotta di Nettuno è stata per il momento azzerata, quindi si costruisce e dall'altra parte si mitigano dei rischi. Poi dal punto di vista dei mezzi e delle attività più in generale, è da dire che vi è una politica nel paese che riguarda l'ambiente un pochino claudicante. L'Italia si è fatta avanti di aver fatto 26-27 aree marine protette, quindi di rientrare negli obiettivi. Su cui qualche anno fa ha scritto anche un libro, un importante libro. Però dall'altra parte le risorse messe a disposizione dalla parte del Ministero dell'Ambiente sono state sempre più ridotte, aumentate le aree e diminuite le risorse. E questo mette oggettivamente in difficoltà l'amministratore. Però proprio per un discorso di ambientalismo che non contemplativo ma che produce ricchezza, Alghero potrebbe essere proprio un esempio di questo, ci sono delle possibilità legate sicuramente a un'interazione tra privato e pubblico per poter creare queste occasioni di sviluppo, crescita e dunque ripeto lavoro. È possibile anche con la marina protetta, basta pensare magari alle bellezze del mare, snorkeering per dire qualcosa, allo studio comunque dei paesaggi. Perché il presente e il futuro non può che essere questo, cioè l'ambientalismo contemplativo ha fallito, possiamo... Magari fallito no, però è vero che non si può pensare a tutelare l'ambiente senza coniugarlo con le esigenze dell'uomo che non è un incidente della natura. L'uomo c'è, fa parte della natura e spesso è vero che concorre a creare dei problemi alla natura, ma spesso anche a correggere quegli errori, magari creati decenni fa o centinaia di anni fa. Quindi io non vedo l'azione dell'uomo come un'azione tendente alla distruzione, la vedo invece nella sua applicazione, la si deve valutare nella sua applicazione. Potrei fare tanti esempi, ma non credo che sia il caso. Il fatto che si coniughi con uno sviluppo, in questo caso turistico, ma anche culturale, ma anche di conservazione per le future generazioni, mi sembra essenziale. Poi le metodologie che si possono perseguire sono diverse. Paradossalmente, ovviamente, questo è molto, ma molto più facile per le aree terrestri che ovviamente possono offrire prodotti, come dire, c'è la terra, c'è una ricostruzione, eccetera. È più difficile per il mare. In qualche sito hanno provato, non con risultati brillanti, però è vero che si possono avviare delle azioni di diffusione della conoscenza del territorio, delle eccellenze che soffre, e quindi, non direttamente, ma indirettamente, creare quei flussi economici di straordinario interesse che in alcune aree, come per esempio le Cinque Terre in Liguria, sono, beh, certamente, sono riuscite a realizzare. Manca poco, in chiusura un passaggio, ho visto anche il suo riferimento politico, insomma, del centro-destra, in particolare Forza Italia, negli anni passati, adesso probabilmente in altre nuove avventure, una fotografia sulla tua amministrazione, e dunque nello specifico quella del sindaco Bruno di questi primi due anni. Io ho fatto il coordinatore di Forza Italia, come dire, in una fase di cambiamenti particolarmente forti, in cui era necessario probabilmente una figura di equilibrio, e a torto ragione hanno scelto me. Oggi le cose sono profondamente cambiate, c'è stato il passaggio nel Popolo della Libertà, poi un ritorno a Forza Italia, quindi non si può usare la stessa chiave di lettura del 94, per intenderci, o degli anni in cui me ne sono occupato più direttamente, che sono intorno al 2006, 2007, e così via. Però, ecco, per fare dei riferimenti all'azione amministrativa, io credo che l'azione amministrativa risenta di un clima straordinariamente negativo che insiste nel Paese. Questo mancato riconoscimento tra delle parti che poi concorrono, vorrebbero concorrere a guidare il Paese, è tremendo. Non mi piacciono le citazioni, però il politologo McKenzie dice che la scienza politica è la scienza per eccellenza, mentre invece oggi assistiamo a un ripudio della politica quasi che non ci si occupi invece della gente. Ecco, bene, se la politica è intesa come sviluppo e attenzione per il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini e della gente, ben venga la politica. E oggi questo sta avvenendo ad Alghero? Beh, ho qualche difficoltà a vederlo.